Sì. Allora, prendiamo... Ecco, essenzialmente vorrei coprire questi tre o quattro punti, come aggiungere cariche, poi ritornare un po' sui vincoli, sulle equazioni del moto in generale e sulle condizioni ai bordi. Un po' le faremo anche alla lavagna, penso. Dunque, sì, qui c'è anche del materiale, abbiamo già solo scritto in inglese, però... Ok. Ecco. Dicevo che non è banale introdurre interazioni dirette fra particelle, e viceversa è abbastanza semplice introdurre le interazioni di una particella con un campo esterno e il prototipo è proprio l'interazione di una particella carica con un campo elettromagnetico che scrivo perché, diciamo, l'analogo per la stringa è interessante, diciamo, e sarà interessante anche nel seguito. Cioè, una particella, vi ricordo, una particella di carica Q o meno Q, non mi ricordo esattamente, e la sua interazione con il campo elettromagnetico si introduce molto semplicemente con un termine che, se vogliamo, è ancora più semplice del termine che abbiamo già scritto, perché lì avevamo questa maledetta radice quadrata che era necessaria per l'invarianza. Ma qui ho bisogno di una sola derivata di x mu rispetto a tau, e quindi, siccome ho a disposizione un vettore, il potenziale vettore del campo elettromagnetico, basta contrarre, come si dice, l'indice x mu con l'indice mu del campo vettore, di nuovo sommato sui mu, e quindi l'azione si scrive in forma molto elegante, diciamo, è l'accoppiamento naturale di un punto a un canto vettoriale che, diciamo, in un certo jargon, viene anche chiamato una unoforma, va bene. E, appunto, non c'è bisogno di metrica, il g mu non entra in questo accoppiamento in alcun modo. Allora, qual è l'analogo per la stringa? Andiamo avanti. Ecco, l'analogo per la stringa è scritto qui. Di nuovo, niente radici, prendo la derivata rispetto a xi alfa, la derivata rispetto a xi beta, è semplicemente antisimmetrizzo questo oggetto, usando il tensore antisimmetrico a due indici epsilon alfa beta, che è, per esempio, più 1 se alfa è 0 e beta è 1, e meno 1 se alfa è 1 e beta è 0, e altrimenti è 0. Quindi, scritta più indisteso, l'azione, questo termine aggiuntivo, chiamiamolo delta S per la stringa, è semplicemente l'integrale di sigma di tau x.mu x'nu meno x.mu x'mu per qualcosa, cioè al posto del campo elettromagnetico, qui ho un campo tensoriale, con due indici, da non confondersi con il g mu nu, perché ha da essere antisimmetrico, per costruzione. Perché, appunto, questo oggetto è antisimmetrico, quindi se parto da un b mu nu che non è antisimmetrico, la parte simmetrica viene proiettata via. E una tale azione è invariante, di nuovo, per trasformazioni delle coordenate sigma e tau, come si può facilmente arguire, cioè il volume di integrazione di 2si cambia per un giacobiano, ma quella combinazione di derivate con la epsilon si vede facilmente che anche cambia con l'inverso giacobiano, quindi quell'oggetto è completamente invariante, senza usare nessuna radice quadrata. Quindi, se vogliamo, le stringhe, essendo oggetti unidimensionali, si accoppiano in modo naturale a dei tensori antisimmetrici a due indici, quella che si chiama anche una dueforma. E questo, diciamo, avrà delle conseguenze molto interessanti, per esempio, quando compattificheremo alcune delle dimensioni spaziali. Allora, una cosa che tutti sanno è che nel caso del punto materiale accoppiato a un campo elettromagnetico o l'elettromagnetismo stesso, c'è un'invarianza di gauge, nel senso che se io trasformo a mu scriviamolo qui, l'azione del punto materiale di tau x punto mu a mu possiede un'invarianza detta di gauge, che tutti sanno, a mu che va in a mu più di mu in un certo lambda, fa sì che ottengo questa s delta s x punto mu di mu lambda altro non è che il lambda punto, eh? La derivata rispetto a x mu di lambda per la derivata di x mu rispetto a tau mi dà semplicemente la derivata rispetto a tau di lambda di x. ma le regolette del gioco sono che tutte le derivate totali dell'azione salvo termini di bordo tricchi, eccetera si possono buttare via. Quindi questa azione ha l'invarianza di gauge cioè il potenziale vettore come sappiamo non è una quantità direttamente fisica quella che è fisica è il tensore f mu nu di mu a mu meno di nu a mu il quale ha anche questa invarianza questo è il vero campo elettrico e magnetico però quando vogliamo scrivere l'accoppiamento di una particella al campo elettromagnetico è molto conveniente usare direttamente il potenziale e non il campo elettrico e magnetico allora l'azione della stringa questo termine di interazione della stringa con il tensore antisimmetrico ha anche lei un'invarianza e l'invarianza come potete forse indovinare è simile all'invarianza di gauge solo che il parametro di gauge ora è lei stessa un vettore quindi c'è questa nuova invarianza di gauge se uno inserisce questo questo campo antisimmetrico e questa diciamo si può devoltare abbastanza facilmente usando giochetti analoghi non sto a fare i passaggi perché probabilmente li sbaglio se li faccio alla lavagna e invece fatti in treno credo siano giusti delta s uguale integrale se io faccio questa trasformazione delta di delta s se vogliamo sotto questa trasformazione di sigma di tau per di sigma di x nu lambda punto nu meno di tau cioè differisce solo per derivare stessa cosa ma con lambda primo scusate x lambda primo quindi di nuovo si vede che che questa azione ha l'imperanza di gauge e se vogliamo la morale di tutta la favola sarà che non è l'analogo dell'f mu nu cioè del campo elettromagnetico in questo caso sarà un rotore di questo cioè qualcosa del tipo di lambda di mu nu e poi ci sono più più e meno le permutazioni di questi indici con con un segno che corrisponde diciamo alla parità della perturbazione questo è quello che poi viene definito come scusate h lambda cioè sarà un tensore a tre indici completamente antisimmetrico questo sarà quello che veramente contiene la quantità fisica nello stesso modo in cui il campo elettromagnetico è l'oggetto misurabile quindi questa diciamo l'analogia pensavo fosse importante già menzionarla a questo livello perso non so ci sono domande su questo punto ho perso la penna l'ho messo eccola qui questa è la mia allora ecco qui ok domande su questo sì questo non l'ho ancora fatto per sbaglio dicevo se c'erano domande su questa cosa precedente cioè il fatto che di questo accoppiamento questo è l'accoppiamento naturale di una stringa se uno dice qual è l'analogo di una carica di un punto la carica è qualcosa e dare un accoppiamento non banale alla stringa a questo campo antisimmetrico a due indici che ha lei stessa un'invarianza di gauge che generalizza l'invarianza di gauge e l'elettromagnetismo in modo tale che il campo di forza il strength di questo campo è l'oggetto fisico che è questo rotore perché è chiaro se io prendo questo e poi trasformo bimunnu in quel modo ottengo due derivate e quando antisimmetrizzo tutto l'oggetto è zero nello stesso modo come qui se mando annu in annu più di nullanda ottengo di mu di nullanda meno di nu di mu di nullanda e qui ho zero stessa idea va bene fin qui? ok allora i vincoli i vincoli allora per il caso della particella possiamo vederlo insieme forse c'era già qui una domanda cioè se uno prende la particella abbiamo detto l'integrale di tau abbiamo detto radice determinante di punto mu punto mu allora scusate determinante lo c'era il p mu è definito come una derivata funzionale dell'azione rispetto a x punto mu era su questa la domanda? ah sì no è la derivata no no infatti è la derivata normale dell'azione diciamo la derivata funzionale dell'azione moralmente la stessa cosa è la derivata della lagrangiana perché diciamo non lo defini perché l'azione è un funzionale non è una funzione è qualcosa che associa un numero a una funzione non una funzione quindi diciamo però moralmente è la stessa cosa come dire la derivata della lagrangiana infatti è quello che faccio è alla fine perché prendo la lagrangiana però diciamo si può definire una derivata funzionale l'azione è un po' più precisa allora questa cosa è 1 su 2 radice però poi il 2 va via perché scusate mettiamo la m quindi ho un m radice la devo derivare qui dentro ottengo un 2 perché diciamo ottengo la stessa cosa e vabbè forse a parte un segno meno però c'avevo un meno qui davanti ottengo x punto nu g mu nu quando faccio la derivata rispetto a x punto a questo punto mi calcolo pi mu pi nu per l'inverso della metrica quando g mu nu ha l'indice in alto significa l'inverso del g mu nu con l'indice in basso scusate il 2 ho detto bene perché posso derivare sia questo che quello e quindi la radice va via viene meno x punto mu x punto nu e sopra viene la stessa cosa x punto nu scusate dovrei scrivere il spunto lambda g lambda mu il spunto eta g eta nu g mu nu scusate lo faccio un po' pedanticamente queste matrici questo è l'inverso di questo quindi tutto funziona a riprodurre di nuovo il denominatore a parte un segno e a parte un m quadro che mi sono scordato e quindi effettivamente è un esercizietto che si fa facilmente allora per la stringa è leggermente più complicato però possiamo cercare di farlo almeno per quanto riguarda no li facciamo tutti e due il primo vincolo è piuttosto semplice da dimostrare o il primo o il secondo vediamo allora partiamo da questa la grangiana o questa azione di 2x meno determinante scriviamo direttamente determinante come abbiamo fatto x punto x primo al quadrato mi scusate questo col più e questo col meno con la mia metrica è così e c'è la t davanti quindi il p mu c'è una t c'è uno su radice con il 2 che però per avvia c'è un 2 e viene x punto x primo devo prendere x punto arrivata rispetto a x punto c'è un 2 c'è un x punto x primo e poi mi resta ancora un x primo d'accordo? quindi qui l'indice sono contratti e qui l'indice è un indice posso mettermi anche in una metrica arbitraria se nu g nu mu a meno il 2 anche viene qui però questa volta ho x primo quadro x punto nu nuovo g nu mu e per questo g nu mu viene fuori a tutto è abbastanza passivo naturalmente g mu nu dipende da x ma per calcolare l'impulso devo fare la derivata rispetto a x punto quindi non c'ho da derivare niente anche se la metrica fosse non banale questo vale allora a questo punto due cose se ora mi faccio il conto di pi mu x primo mu sommato vedete che fa zero se non ho fatto sbaglio se io questo lo motivo per x primo mu mi viene x primo quadro se questo lo lo motivo per x primo mu mi viene x punto x primo quindi esattamente con questo segno meno quello che un po' meno più complicato è farsi questo conto qui pi mu pi nu g mu nu dove g mu nu è l'inverso di g mu nu con l'indice in basso qui ci vuole un po' più di tempo però non è complicato perché basta prendere questo magari di nuovo chiamare il suo indice lambda invece che nu per non confondersi o chiamare questo lambda e non sto a farlo però viene t quadro siccome faccio il quadrato il 2 va via qui mi viene x punto x primo al quadrato meno x punto quadro il primo quadro senza la radice e sopra quando moltiplico cosa viene? viene per esempio x punto x primo per x primo x primo per x primo quadro non mi piace tanto sperimentale sì 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 no ma viene scusate questo viene al quadrato ovviamente questo lo moltiplico per se avrò quattro termini è questo per l'analogo questo con il segno meno per quello con il segno meno poi ho i termini incrociati con il segno meno se metto tutto insieme viene x punto x primo al quadrato per x primo quadro più dal termine questo al quadrato x primo quadrato x punto quadrato x punto quadrato meno due due volte il termine incrociati che però danno un x punto x primo al quadrato x primo al quadrato in altre parole mi cambiano il segno di questo è una reazione di algebretta quindi questo avvia col 2 e questo a questo punto vedete che c'è un x primo quadro per il denominatore è vero con un t quadro e se uno non ha fatto sbagli di segno un segno meno overall perché c'è questo meno mentre qui c'è il più quindi uno deve fare molta attenzione ai segni che uno poteva pensare venisse pi mu pi nu g mu nu uguale x primo quadro no avere più x primo quadro uguale a zero perché questo è uguale a meno x primo quadro sembra una magia ma è così poi diciamo in un'altra formulazione della stringa di Poliakov questo viene poi in modo un po' più diretto però uno si fa il conto e viene fuori anche nella formulazione di Nambu-Goto quindi questi sono i due vincoli interessante che uno contiene scusate quando dico x primo quadro qui x primo mu x primo nu g mu nu interessante che il vincolo il primo vincolo che abbiamo messo da qualche parte non contiene la metrica forse non ho nemmeno scritto x primo p uguale a zero perché diciamo x primo c'è un indice in alto il p c'è un indice in basso e quindi li contrato direttamente invece questo che invece di essere bilineare e quadratico questo contiene sia la metrica sia l'inverso della metrica questo è il vincolo più rognoso domande sui vincoli quindi come promesso ne vengono fuori due per il e dunque l'altra cosa ecco volevo mostrarvi le equazioni del moto perché l'equazione del moto vuol dire scrivere l'equazione di Olero Lagrange per questa per questa azione in Minkowski perché attenzione se faccio l'equazione del moto a questo punto non posso trascurare la dipendenza di x della metrica perché devo anche variare rispetto a x mentre per calcolare gli impulsi mi basta la derivata rispetto a x punto quindi sono insensibile alla complicazione della metrica qui è ovvio e dall'altra parte è giusto perché diciamo il moto della stringa deve dipendere dal campo grafitazionale in cui si muove quindi è giusto però per fare la vita semplice e mostrare che anche la vita semplice a priori sembra molto complicata scrivo l'equazione di moto in Minkowski sono abbastanza orrende non trovate perché questa è l'equazione del moto del secondo dd tau di dl di x punto più dd sigma dl di x primo uguale a zero ma dl di x punto ha questa struttura di cui ancora devo prendere la derivata rispetto a tau e questa devo prendere la derivata rispetto a sigma sembrerebbe senza speranza questa queste situazioni in moto però non l'ho fatto qui lo faccio alla lavagna allora vediamo come si semplificano il gheggio atto normale sì questo non ho nemmeno gli appunti perché è abbastanza banale vederlo direttamente sulle slides mettiamoci nel famoso gage ottonormale in cui x punto x primo contratto è zero e x punto potete riscrivere qui quindi ho x punto x primo uguale a zero e x punto quadro più x primo quadro uguale a zero allora vedete subito che le radici spariscono perché viene la radice di un quadrato attenzione questi quadrati non sono dei veri quadrati sono somme di prodotti ma se io dico che x punto quadro è uguale a meno x primo quadro che è una delle due condizioni questo mi viene x punto quadro poi tutto al quadrato quindi a questo punto la radice la posso prendere ci sarà un segno da definire bene segno di questa radice inoltre qui sopra questo termine va via ma allora se io questo lo interpreto come a x punto quadro mi viene che dl di x primo è semplicemente t volte x primo molto semplice e dl x punto è t volte x punto per lo stesso motivo questo va via questo va via questo diventa un quadrato perfetto ne faccio la radice semplifico numeratore e denominatore mi va via l'unica attenzione bisogna fare a un segno perché diciamo x primo quadro e x punto quadro vogliono avere segno opposto come vedete da quell'equazione quindi devo tenere conto di quel segno e se non sbaglio diciamo devo prendere la determinazione positiva della radice in tutti e due i casi e alla fine c'è un piccolo segno da stare attenti ma capite ora perché viene l'equazione delle onde perché di tau di dl di x punto ma dl di x punto ora è t volte x punto quindi viene la derivata seconda rispetto a tau di x e analogamente viene la derivata seconda rispetto a sigma di x quindi se sto bene attento ai segni mi viene la derivata seconda rispetto a tau è uguale alla derivata seconda rispetto a sigma non meno è uguale quindi c'è giusto questo segno a cui uno deve fare attenzione ma si vede bene come si semplificano le equazioni alle volte una fortuna a priori sembrerebbe disperata la situazione chiaro la questione delle equazioni del moto poi abbiamo solo l'ultimo argomento sono le le condizioni ai bordi siamo già verso allora il punto è che ecco bisogna fare un piccolo passo indietro che è questo cioè quando uno varia l'azione di Nambugoto ottiene un termine normale diciamo come il sogno vengono le equazioni di Eulero Lagrange mettendo a zero questa variazione e questa è l'equazione del moto eccola scritta sotto però se uno sta attento viene anche un termine diciamo di superficie che anche va messo a zero perché nessuno ci dice che nel principio variazionale si debba mettere a zero qualcosa ai bordi spaziali bordi temporali sì ma non ai bordi spaziali quindi ecco da dove vengono le condizioni ai bordi vengono da mettere anche a zero questo termine ma questo termine siccome è derivato rispetto a sigma contribuisce solo ai due estremi infatti con segno opposto all'estremo sigma uguale a zero e all'estremo sigma uguale a pi greco quindi ecco perché vengono fuori queste condizioni e questa va soddisfatta ecco perché eccezione alla regola qui c'è un indice ripetuto che non va sommato infatti quando non va sommato bisogna dirlo altrimenti è sottinteso che si sommano quindi qui mu per mu va impostata questa condizione allora come dicevo per stringhe chiuse siccome i punti sigma uguale a zero e sigma pi greco sono allo stesso punto bla 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 se l'espazio è elettropologicamente banale questa condizione è automaticamente soddisfatta dal fatto che la stringa ha questa periodicità l'x mu ha questa periodicità quindi non c'è nulla da fare ecco basta imporre appunto la periodicità in sigma della x per le stringhe aperte vedete qui le due possibilità le due possibilità sono essenzialmente mettere a zero dl siccome ora sono due punti distinti non posso imporre un'uguaglianza tra le due e quindi devo imporre separatamente che siano zero e secondo che metto a zero il delta x mu o il dl di x primo vengono le due condizioni tipo Neumann e tipo D questo è diciamo poi per lo meno nel gauge che abbiamo usato questo diventa x primo uguale a zero e x punto uguale a zero semplicemente perché la x non si muove quindi questo era essenzialmente quello che volevo spiegare come queste condizioni ai bordi vengono fuori dal principio variazionale è tutto qui e poi vabbè forse vedremo come sono invece diverse quando introdisciamo i fermioni ma diciamo per i bosoni questo è essenzialmente tutto sì avevo intenzione poi di discutere la soluzione ma l'abbiamo fatta la prima ora quindi diciamo non c'è bisogno non mi sembra c'era niente di nuovo no non c'è niente di nuovo quindi questa esaurirebbe la lezione se ci sono altre domande sono qui per cercare di rispondere diciamo spero che questo abbia dato un po' un'idea di cos'è una stringa classica questo era lo scopo della lezione e poi però dovremmo dovremmo guardare cosa fa a livello quantistico e quella è la vera teoria di stringa è essenzialmente quantistica cioè in modo essenziale non è che è giusto diceva uno fa l'approssimazione classica e poi c'ha delle piccole correzioni cioè il messaggio sarà che la quantizzazione è proprio essenziale e sarà l'origine di tante di tante proprietà della stringa anche di simmetrie che classicamente non ci sono e che si sputano fuori dall'avantizzazione ecc va bene vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo domande no io non so se può darsi che è una sciocchezza di qualcosa no no prego quindi faccio perdere il tempo nel caso della particella carica mi è sfuggito sostanzialmente il legame tra questo B dove è andato a finire il campo non lo vedo più nel senso che il campo per la stringa il campo B è il caso della stringa il campo A è il caso del punto era un'analogia è un'analogia ma non c'è un limite nel quale la stringa si deve comportare come un punto sì 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 in un certo senso è vero è vero e infatti vedremo una buona domanda diciamo quello che vedremo è che quando compatifichiamo una dimensione questo campo B darà luogo a un campo di gauge tipo proprio elettromagnetico ora mi fanno un po' la sprovvista sì dovrebbe capire se in qualche modo in un limite ritorna l'interazione si dovrebbe essere sì dovrebbe essere in qualche modo un limite in cui prima è qui sembrerebbe difficile riuscire a riottenere no quello che succederà è che diciamo questo campo di minu quando uno degli indici corrisponderà alla direzione compatta quel bmu 5 chiamiamolo dato che di dargli un nome quello sarà un campo di gauge e effettivamente bisognerà sì x primo prenderà un certo valore in quella direzione dovuto al fatto che la stringa per esempio si arrotola quella direzione e lì si riottiene pari pari però effettivamente la domanda è più generale sembrerebbe che nel limite di tensione infinita o qualcosa del genere si dovesse riacquistare non so rispondere su due piedi ci penso magari per la prossima o forse qualcuno del pubblico sa la risposta e ci sono anche esperti qui ma così su due piedi non vedo come andare dall'azione del punto ma invece forse la cosa che mi sfuggiva che è più banale quando si fa questa analogia facciamo il moto di una particella carica in un campo che è definito da a mo qui invece per la stringa facciamo l'equazione del moto per la stringa in un analogo del campo eh sì non è il campo no no non è il campo elettromagnetico eh sì no e infatti diciamo la stringa ha questa proprietà diciamo in questo senso differisce eh per l'azione della gravità viene modificata nella stringa e c'è questo campo addizionale cioè eh cioè fa parte proprio dei dei campi non solo ci sarà un certo moto della stringa che corrisponde alla quantizzazione di questo campo cioè questo campo diventa un campo dinamico come il fotone no è una particella fisica che si propaga che interagisce eccetera così il campo b mu nu dà origine a un campo diciamo che in in quattro dimensioni sarebbe lui stesso un vettore eh no aspetta no in quattro dimensioni diventa uno scalare spin zero in più dimensioni ci avrà degli indici eccetera quindi quindi sembra un po' difficile ottenere l'un passare dall'uno all'altro cioè sembra veramente tipico della dell'essere partiti da un oggetto unidimensionale viceversa poi quando parleremo di brane che sono oggetti a più di due di una dimensione sono le pi brane quelle invece si accopriranno a oggetti ancora più complicati con ancora più indici sono queste forme e questi diciamo sono sono campi che tu puoi accendere o tu puoi dire le mie brane sono cariche rispetto a questo campo nello stesso modo dici questa particella è carica rispetto al campo elettromagnetico oppure al campo di colore eh perché diciamo il modello standard non ha semplicemente un campo abeliano quindi ci saranno quindi per esempio ci saranno delle uno delle uno brane che saranno o zero brane scusate nella terminologia corrente che sono dei punti materiali quelli avranno dei campi di gauge ma la stringa fondamentale è che io sappia non ama accoppiarsi al campo di gauge e non so se c'è un senso del limite tensione infinita in cui si vede riemergere non lo so ci devo pensare bisogna dire anche che diciamo la stringa che stiamo descrivendo è una stringa senza massa intrinseca non ha massa lungo la non ha né massa né carica elettrica quello che puoi giocare è su mettere carica all'estremità della stringa e forse in questo in questo modo si può riottenere effettivamente l'accoppiamento a un campo elettromagnetico sì forse questa è la risposta giusta cioè quello che si riesce a fare con la stringa è di accoppiare un campo all'estremità un campo di gauge quello sicuramente si può fare infatti il modo tradizionale ma un campo che si accoppia lungo tutta la stringa quello mi sa che ha da essere un campo a due indici mentre se uno si accontenta quindi una stringa chiusa non è facile accoppiare a un campo elettromagnetico ma una stringa aperta si può accoppiare si possono mettere cariche all'estremità allora lì effettivamente nel limite tensione infinita vabbè questo si può ridurre a un punto carico quindi la stringa è neutra nella parte interna esatto ma è neutra rispetto al campo elettromagnetico ma non è neutra rispetto a questo campo cioè può essere neutra ma può anche aver carica mentre rispetto al campo elettromagnetico le cariche sono concentrate all'estremità e queste vengono fuori effettivamente si sa bene le stringhe aperte si accoppiano ma non nel bulk come si dice non nel suo volume bene allora chiudiamo qui grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti